Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito come facciamo di consueto i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata. Musica Con 19 voti a favore e 11 contrari, il Consiglio regionale ha dato il via libera al bilancio preventivo 2023 e pluriennale 2023-2025 di Arts, l'Agenzia regionale di sanità. Ad illustrare in aula le linee del bilancio è stato il presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni. L'Agenzia regionale di sanità è un punto di riferimento per tutti gli operatori, per la politica, direi anche per i cittadini, basta andare sul sito e vedere gli innumerevoli lavori che producono continuamente i ricercatori che fanno capo all'Ars. Un punto di riferimento perché quando si parla di sanità è necessario partire dai dati, è necessario partire dalle analisi e quelli che l'Ars fa sono un punto fondamentale che noi abbiamo usato anche quando abbiamo fatto il percorso degli Stati Generali della Salute. Se no si rimane alle opinioni e invece le discussioni politiche vanno fondate sui dati. Durante il Covid ovviamente l'Ars ha svolto un ruolo fondamentale nel monitoraggio dell'epidemia, ma volgeva ruoli fondamentali prima, sta continuando anche ora a analizzare tanti aspetti e ricordo il piano su Welfare che annualmente fa l'Agenzia e che ci rifà un quadro generale di quello che è lo stato di salute dei nostri cittadini. L'Agenzia di Sanità è una valutazione positiva perché è un ente tecnico che dovrebbe risolvere dei problemi che la politica pone. Evidentemente però non vengono posti in maniera adeguata se il risultato è una sanità di questo genere, dove si dice tutto il contrario di tutto. Naturalmente essendo il bilancio di Ars un'emanazione diretta della Giunta è ovvio che noi non partecipando quindi alla stesura e comunque alle scelte programmatiche non potevamo che votare contro. Il tema della riorganizzazione del servizio di emergenza urgenza territoriale e ospedaliero torna sui banchi dell'Aula di Palazzo del Pegaso. Il Consiglio regionale ha respinto una proposta di risoluzione in merito firmata dai consiglieri Petrucci, Torseglie e Fantozzi. I voti contrari sono stati 20, 10 favorevoli, un astenuto. Abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore Bezzini per tutta una serie di situazioni che stanno avvenendo nella sanità toscana ma non ci limitiamo alla critica. Noi abbiamo l'ambizione di governare questa regione molto presto e quindi portiamo delle proposte di risoluzione dei problemi come per esempio nell'ambito dell'emergenza urgenza che è sicuramente l'ambito più critico che c'è in questo momento. Noi riteniamo che alcune cose possono essere migliorate immediatamente, pensiamo per esempio che si debba aumentare i posti letto nei pronto soccorsi perché un conto è se una persona una volta ogni tanto sta uno, due, tre, tre giorni e mezzo in una barella in un corridoio e già non andrebbe bene. Ma se tutti i giorni ci sono persone che stanno 24, 36, 48 ore barellate nei corridoi dei pronto soccorsi senza acqua, senza cibo perché non è previsto quel tipo di somministrazione per chi sta lì nel pronto soccorso evidentemente bisogna cambiare la struttura, bisogna aumentare i posti letto nei pronto soccorsi. Noi pensiamo che si debbano aumentare gli ambulatori per codici bianchi nei pronto soccorsi, una percentuale importante di accessi ai pronto soccorso è per codici bianchi comunque per situazioni di livello molto basso, di intensità bassa. Dobbiamo quindi differenziare la prestazione sanitaria per chi arriva in fin di vita e per chi arriva con un dito da steccare, che comunque ha bisogno di avere una prestazione sanitaria. Noi pensiamo che nella proposta di risoluzione ci siano tante risposte all'emergenza della sanità toscana, all'emergenza della crisi dei pronto soccorsi. La consigliera Donatella Spadi ha chiesto a Petrucci di ritirare la mozione e di portarla in Commissione Sanità per fare un lavoro di approfondimento. Abbiamo proposto di portarla in Commissione perché ovviamente alcune delle cose che sono scritte sono di pertinenza nazionale, alcune riguardano non soltanto il Ministero della Sanità ma addirittura il Ministero dell'Istruzione e altre invece sono cose che già esistono, tipo i dipartimenti di emergenza e urgenza che già esistono e all'interno di questi già sono integrati i medici del centro che lavorano sul territorio e i medici che lavorano dentro il pronto soccorso. Un lavoro difficile come dicevo perché spesso sottoposto a burnout sono quei posti dove la decisione deve essere istantanea e molto spesso da quella decisione può dipendere la vita o la morte di una persona. È chiaro che parlare di pronto soccorsi non è così semplice e secondo me non si può risolvere nell'arco di una discussione consigliare perché gli argomenti da affrontare sono tanti e ci sono anche tanti argomenti che sono interconnessi. Cioè sicuramente la medicina del territorio, le case di comunità una volta che lavoreranno e quindi potranno svolgere una serie di servizi tipo leografie, tante cose potremmo evitare quello che si chiama boarding e overcrowding dei pronto soccorsi. Questa la posizione del consigliere Andrea Ulmi che aveva proposto alcuni emendamenti al testo. Le motivazioni della bocciatura sono risibili, sono politiche. Di fatto noi per quanto mi riguarda nel mio intervento ho voluto mettere all'attenzione dell'Aula l'attuale situazione critica in cui versa l'emergenza urgenza. Sia l'emergenza urgenza ospedaliera, quindi il pronto soccorso, sia l'emergenza urgenza territoriale cioè come la delibera 1425 e 1424 cioè quella sul 118 e sulla continuità assistenziale siano per ora fallimentari. È ovvio che uno può richiamare il fatto che la medicina territoriale deve con le case di comunità, gli ospedali di comunità essere ancora implementata. Però se non si aumenta gli operatori, se non si cerca di fare da filtro come un emendamento che abbiamo voluto fare noi al pronto soccorso e quindi fino a che non ci sia una medicina territoriale che fa da filtro mettere un dipartimento ambulatoriale che intercetti i codici 4 e i codici 5, cioè quelli non urgenti e in urgenza diciamo codici bianchi, automaticamente avremo sempre una situazione drammatica. Va avanti il lavoro degli stati generali della cultura, momento di approfondimento e verifica sulle condizioni e le regole dell'offerta culturale in Toscana svolto dalla Commissione Istruzione e Cultura del Consiglio regionale presieduta da Cristina Giacchi, protagonista di una delle ultime audizioni la presidente di Fondazione Toscana Spettacolo. Giacchi ha inoltre tracciato un bilancio del percorso avviato proprio dagli stati generali della cultura. Ma noi siamo molto soddisfatti anche se hanno aperto un vaso di Pandora di lavoro da fare perché il settore della cultura è un settore senz'altro importantissimo e questo lo dicono tutti e non hanno difficoltà a dirlo ma poi quando lo si considera strategico e prioritario negli interventi le cose cambiano. Quindi abbiamo messo a fuoco ancora con più chiarezza quali sono le esigenze del settore che non sono solo esigenze di finanziamenti per sostenere costi. È richiesta un cambiamento di passo, cioè la considerazione di quella spesa non come un costo ma come un costo di investimento strategico per un settore produttivo tra i più importanti del nostro territorio. L'IRPET ci ha aiutato a vedere il PIL che questo settore mette in moto, la quantità di lavoratori impiegati e tutto sul sito Fai Contare la Cultura. Il quadro che ne emerge è un quadro di grande ricchezza, di grande articolazione ma anche bisognoso non soltanto di sostegno finanziario ma anche di organizzazione, di carte, di percorsi, di norme e per questo appunto gli stati generali da un lato hanno dato un buon frutto dall'altro ci presentano un periodo di lavoro molto intenso. È un buon lavoro, un lavoro che stiamo facendo già da tanto tempo addirittura facciamo commissione tutte le settimane già da almeno un mese. Abbiamo partecipato alla fiera a testo con la proposta di legge appunto sulla lettura nelle scuole che ha avuto un grande successo. Ora andremo a breve a visitare anche il carcere di Volterla per il teatro in carcere quindi ci muoviamo anche come commissione per andare nei vari luoghi della Toscana. Abbiamo fatto tantissime audizioni, in particolare con chi lavora nello spettacolo dal vivo con i gestori delle sale cinematografiche ma diciamo che sono tantissimi gli operatori del settore dello spettacolo, della cultura forse anche inimmaginati a volte, devo dire così, che uno non si aspettava che fossero così variegati. Abbiamo fatto anche un'audizione con l'assessore Nardini per un discorso di formazione perché dietro a questi lavori occorre anche una formazione adeguata. Approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2021 dell'ente parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli ancora un bilancio in ritardo come sottolineato dalla stessa presidente della commissione territorio ambiente Lucia De Robertis a causa del processo di riorganizzazione dell'ente e della carenza di personale. Abbiamo approvato il consuntivo 2021, un consuntivo che riguarda un anno in cui c'è stato il cambiamento della presidenza il presidente Bani è subentrato con la nuova rappresentanza della comunità del parco a luglio quindi è un bilancio a cavallo fra mandati diversi, presidenze diverse. In ogni caso è un bilancio che chiude inutile e segnala credo già un primo cambiamento di passo perché se leggiamo le cifre, i dati del bilancio vediamo come i ricavi dalle attività legate a quanto si svolge nel territorio del parco, attività agricole, zootecniche e di valorizzazione comunque delle produzioni che nel parco si sviluppano è aumentato. È chiaro che il parco ha potenzialità enormi che devono ancora e maggiormente essere valorizzate e sviluppate ma credo che la presidenza Bani per questo stia dando segnali importanti di dinamismo apportando anche nuove idee che nel futuro prossimo sicuramente faranno fare al parco un salto di qualità quello di cui c'è bisogno perché il parco è un bene di tutti è vero, ha un pregio anche naturalistico, ambientale e questo va protetto però è anche un patrimonio che può essere maggiormente fruito. La valutazione è sbalorditiva perché dopo diciamo sempre le stesse cose, arriviamo sempre in ritardo viene approvato un bilancio che doveva essere approvato un anno fa e la cosa che mi risulta un po' strana è che dall'accesso atti che avevo fatto anche sui documenti relativi ad un concorso che aveva portato alla selezione e all'assunzione di una nuova persona in amministrazione vengo adesso a sapere che hanno necessità di un'altra persona quindi mi pongo un po' di dubbi sulla validità di quel concorso sono cose che dovrebbero essere approfondite sicuramente la regione toscana non può continuare ad approvare bilanci in ritardo di tutti i suoi parchi dovrebbe veramente porci un pensiero, una attenzione, una programmazione e arrivare a valorizzarli perché altrimenti così sono solo organismi che non servono praticamente a niente servono solo a perdere dei soldi e quindi bisogna prendere una decisione o si finanziano o si cambiano le persone perché qualcosa vuol dire che non funziona noi vogliamo verificare una cosa che verificheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane c'è un patto tra il Quirinale, quindi la Presidenza della Repubblica e il parco di Migliarino, Massaciuccoli e San Rossore che riguarda la tenuta di San Rossore che è all'interno del parco e prima la tenuta del Presidente della Repubblica che prevedeva che il Quirinale versasse alla regione toscana per la gestione della tenuta 4 miliardi e 200 milioni di vecchie lire l'anno che equivalgono a 2 milioni di euro in realtà la regione toscana versa al parco circa 800 mila euro l'anno quindi noi vogliamo capire se quei 2 milioni continuano ad arrivare dal Quirinale e poi la regione li trattiene anziché per San Rossore nella pancia del bilancio regionale oppure se quei soldi non arrivano quindi vogliamo capire meglio questa vicenda intanto la segnaliamo ma stiamo facendo gli atti opportuni per poterla mettere in maniera più decisa alla luce della pubblica opinione Forse il sistema dei parchi regionali andrebbe ripensato andrebbe ripensato perché c'è una diminuzione dell'investimento dell'impegno economico da parte della regione toscana che fa pensare anche dal punto di vista dell'approccio che la regione toscana intende dare a questi riferimenti così importanti per quanto riguarda il nostro territorio che si va a aggiungere in un quadro già di difficoltà perché il venir meno delle province aveva già di per sé ridotto quello che era l'impegno economico e che ulteriormente aggrava un'altra questione sul quale sono intervenuto a più riprese durante la discussione sia in Commissione Quarta che in Consiglio regionale e che è la difficoltà dei versamenti delle quote da parte dei comuni che fanno parte della comunità del parco anche qui è stato rilevato per esempio per il parco Migliarino San Rossore per quanto riguarda il bilancio consuntivo 2021 addirittura una cifra superiore a un milione per le quote non pagate Questa era la nostra ultima intervista a cronache e commenti torna la prossima settimana grazie per la cortesia e attenzione Grazie a tutti